Azzeramento dei tempi per il rilascio dei permessi e riduzioni pari al 70% circa delle spese per la pratica. Sono questi gli aspetti più importanti del progetto Burocrazia Zero per le concessioni stradali, voluto dall'amministrazione del presidente della provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio, che punta a rivoluzionare in maniera determinante le procedure per il rilascio delle concessioni lungo le strade provinciali gestite dall'ente. Burocrazia Zero significa che da oggi in poi chiedere una concessione alla provincia per l'autorizzazione di un accesso, di un segnale stradale, di un'insegna pubblicitaria, si farà subito. Appena il progettista del utente consegnerà la documentazione alla provincia, potrà immediatamente iniziare i lavori. Ma non solo, si abbatte notevolmente una burocrazia che aveva tentacoli incredibili e questo è il segno dei tempi di un'amministrazione che nonostante quello che potrà succedere alla provincia sta ponendo le condizioni perché veramente il cittadino torni ad avere fiducia nei confronti della burocrazia e degli enti pubblici. Cioè mentre prima si pagava 95 euro, oggi se ne paga 25,20. Il 70% in meno significa che non ci saranno più i bolli e quindi sarà un risparmio notevole per i cittadini e per le imprese. Ma andiamo avanti. Abbiamo ampliato l'estensione dell'esenzione alla categoria dei coltivatori diretti e quindi credo che sia un'operazione molto giusta che va nella direzione di rendere più trasparente ed efficace la macchina della provincia soprattutto lungo i 1800 chilometri di strade, ma ridurre i costi e i tempi. Penso che oggi sia un progetto importante che abbiamo presentato ai cittadini.